Dov'eri? Starric si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgherri di Starric. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Henry che ne dici. Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo Starric ruberà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di chiesa e stato. Di nuovo come ai bei tempi? E poi la finiamo qui. D'accordo. Qual è il piano? Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo. Che cosa... Si dice nelle strade. Signora di Israeli, abbiamo scoperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito. Perfetto. Allora andrò da solo. Signora di Israeli, se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso! L'hai sentita, Daisy? Sgraffigneremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sorella. Oh, di niente. Caro fratello. Ora, signora di Israeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajà. Perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. Che nervi! Evi mi tratto dopo Pante. Eccoci! Evi di riusci. Evi. Evi. No, no, no. No, 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 no. 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 Il ballo è stasera. Avranno portato gli inviti con loro. Per caso hai visto passare due carrozze un attimo fa? Sì, signore. In una c'era un uomo, nell'altra una donna. Si sono divisi. Dove è andato l'uomo? Di là. Grazie. Il ballo è stasera. con calma una festa privata la mia passione la mia passione signor Gladstone come state? ah, quale onore vi ringrazio del vostro supporto è un piacere signore William Gladstone al vostro servizio il signor Gladstone non va perso di vista un'interesting choice un'interesting choice andiamo forse non sono stato delicato quanto avrei potuto eppure forse 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 aspetterò che resti da sola la mia passione la mia passione la mia passione la mia passione non si va al ballo della regina senza un'entrata a effetto la mia passione non si va a fare non si va a fare la mia passione non si va a fare la mia passione che cosa è che cosa è E ora gli inviti. Cosa dice qui? Le spade andranno depositate all'entrata. Freddy saprà cosa fare. Piano, piano. Ehi, piano! Bene così. Ma che cavallo obbediente che sei. Bene così.